Questo video è offerto da Una bella partita combattuta, alla fine siete usciti sconfitti, però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato di valere anche una squadra secondo in classifica come è in questo momento la Roma. Sì, ce l'abbiamo giocata a viso aperto, abbiamo creato in più di qualche occasione a gol, Neto è stato bravo a tenerci a galla fino alla fine perché comunque anche la Roma l'ha riuscita a creare molto, è un peccato perché insomma il fatto di non perdere voleva dire riuscire a rimanere abbastanza agganciati al treno del testa, invece in questa maniera andiamo a 10 punti e iniziano ad essere tanti, però partiamo dalle cose positive, abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare su questa strada. Quella posizione hai già gridato al gol? L'ho rivista adesso, diciamo che Morgan ha fatto una gran parata, bravo lui. Avete battuto la Juve e spaventato la Roma, c'è tanta differenza tra queste due squadre secondo te? Beh, diciamo che la Roma può continuare a sperare di vincere lo Scudetto, perché insomma è una grande squadra, gioca un gran calcio, crea molte occasioni da gol, è una gran bella squadra. Il Vigno è quadrato, insomma è un due anno incredibile. Diciamo che è difficile scegliere chi va più veloce. Grazie.